Consiglio straordinario perché da oltre un anno il ministro Toninelli non riceve i nostri sindaci. Dal primo di luglio scatterà un aumento che raggiungerà quota più 20% e saranno vittime i pendolari, i lavoratori, chi studia, chi utilizza la nostra infrastruttura autostradale e pertanto e per questo motivo gli oltre 100 sindaci della regione Abruzzo e della regione Lazio hanno dato modo e voce a questa richiesta ripetuta più volte ma che è rimasta sostanzialmente inascoltata. Di qui la nostra richiesta di Consiglio straordinario a che il governo regionale si faccia portavoce della nostra regione, della nostra comunità, dei nostri territori, dei nostri sindaci e in qualche modo organizzi una iniziativa forte, istituzionale e politica per sedere attorno a un tavolo il ministro Toninelli, i nostri sindaci e per dare risposte a questo caro pedaggi che presto colpirà la nostra comunità regionale.